Benvenuti o bentornati a Real Crime. Anche oggi sono qui per raccontarvi una storia di true crime italiana o internazionale. Il caso di oggi è ambientato negli anni 70 e siamo negli Stati Uniti d'America perché vi racconterò un caso che è stato risolto pensate dopo praticamente 40 anni, il caso di Michelle Martinko. Iniziamo. Siamo negli anni 70 e la biondissima Michelle Martinko sta vivendo gli anni della sua adolescenza. Siamo in una cittadina di nome Cedar Rapids che ha una popolazione di circa 150.000 abitanti e si trova nello stato dell'Iowa. Torniamo per ora alla protagonista del caso di oggi, Michelle Martinko. Scopriamo chi è. Michelle nasce nel 1961 ed è la più giovane delle due figlie di Albert e Jeanette Martinko. È considerato un vero miracolo dai suoi genitori in quanto per tanti anni avevano cercato di avere un secondo figlio con cinque aborti spontanei. Lei e sua sorella Janelle hanno infatti 12 anni di differenza ma nonostante ciò sono molto legate. A 12 anni a Michelle viene diagnosticata la scogliosi tant'è che per due anni dovrà indossare un tutore per la schiena. La ragazza aveva sempre patito questa situazione, era già molto timida e avere questo problema le creava ulteriori imbarazzi. Ma nel 1979, all'età di 18 anni, Michelle sboccia letteralmente in tutta la sua bellezza. È bionda, bella, alta e sicura di sé ed è un'ottima studentessa dell'ultimo anno della Kennedy High School. Fa anche parte della squadra di Twirling e del coro e teatro della scuola. Michelle ha poi grandi progetti per la sua vita. Vuole studiare e laurearsi in interior design. Ora arriviamo alla giornata del 19 dicembre 1979. Manca una settimana al giorno di Natale e Michelle nel tardo pomeriggio partecipa ad un banchetto di beneficenza per il coro della scuola nell'hotel Sheraton Inn, a sud-ovest della città. Quella sera Michelle indossa un vestito nero, i tacchi e una pelliccia di coniglio bianca con fantasie marroni. Una volta terminato l'evento, Michelle chiede ad una sua amica, compagna di squadra di Twirling, Jane, se voleva andare con lei al vicino centro commerciale. Si trattava di un centro commerciale nuovo, aperto da poco e dove Michelle doveva ritirare un cappotto invernale. Jane però rifiuta l'invito di Michelle perché quella sera doveva finire molti compiti e non sarebbe riuscita se tardava troppo ad arrivare a casa. Così Michelle, terminato il banchetto, si reca da sola al centro commerciale portando con sé 180 dollari. Il centro commerciale chiudeva alle 22, più tardi del solito visto il periodo di Natale. Ma quando alle due di notte Michelle non è ancora tornata a casa, i genitori iniziano seriamente a preoccuparsi. Suo padre si mette immediatamente a cercarla, mentre la madre chiama la polizia per denunciarne la scomparsa. Alle ore 4 del mattino l'agente James Kincaid si reca al centro commerciale e trova l'auto verde della famiglia Martinco parcheggiata fuori dal JC Penney Store, un negozio di abbigliamento. Chiaramente, essendo una notte d'inverno, l'auto era completamente ricoperta da ghiaccio per cui non si riusciva a vedere bene all'interno. Il detective a quel punto iniziò a grattare via il ghiaccio e vide dentro la macchina una donna apparentemente accasciata e ubriaca sul sedile del passeggero. Ma quando il detective aprì la portiera si rese subito conto che c'era sangue ovunque che quella donna era proprio Michelle Martinco, priva di vita. L'interno dell'auto era ricoperto di sangue e pezzi di pelliccia della ragazza. Era chiaro che Michelle fosse stata uccisa a coltellate. L'autopsia infatti confermò 29 coltellate di cui 11 al viso, collo e petto. Il medico legale disse che la ragazza era morta tra le ore 20 e le ore 22. L'arma del delitto non era presente sulla scena del crimine ma era chiaro si trattasse di un coltello. Sul corpo di Michelle c'erano anche diversi tagli molto profondi di tipo difensivo, sia alle braccia che alle mani. La ragazza dunque aveva lottato per molti minuti per la sua vita. Si era difesa in tutti i modi possibili. Fuori dall'auto sul cemento non era presente alcun tipo di traccia di sangue, ragion per cui gli investigatori capirono che l'aggressione era avvenuta esclusivamente nell'auto. Non furono rinvenute impronte digitali bensì impronte di guanti da cucina. I gioielli di Michelle non erano stati rubati e neanche i suoi 180 dollari, motivo per cui la polizia escluse subito il movente della rapina. Inoltre Michelle era completamente vestita quindi sembrava anche che nessuno avesse cercato di farle violenza. Insomma il motivo di questo omicidio non era chiaro ma il fatto che fossero stati usati dei guanti indicava chiaramente una premeditazione. Inoltre il numero di coltellate avevano portato a credere alla polizia che l'aggressione non fosse casuale, bensì mirata. C'era stata troppa ferocia, sembrava a tutti gli effetti un crimine passionale. Gli investigatori non avevano alcun tipo di indizio da cui partire. Era d'altrondo un omicidio avvenuto in una buia serata d'inverno e a quel tempo non esistevano né telecamere di videosorveglianza né cellulari. L'unica chance era di poter individuare qualche testimone che avesse visto o notato qualcosa di strano quella sera. Il giorno dopo l'omicidio gli investigatori avevano iniziato a far domande a tutti gli studenti della Kennedy High School, la scuola superiore frequentata da Michelle e anche ai lavoratori del West Dile Mall, il centro commerciale. In particolare la polizia si interessò ad un ragazzo, un sedicenne di nome Curtis Thomas. Curtis era un conoscente di Michelle e lavorava in un negozio di abbigliamento maschile, il Cheese King, all'interno del centro commerciale. Quella sera, quando la ragazza era andata a ritirare la giacca invernale, si era presa qualcosa da mangiare proprio con lui. Dopo circa 45 minuti lei disse a Curtis che sarebbe tornata a casa e lui l'aveva accompagnata fino all'uscita del centro commerciale. Erano circa le 21.30. Effettivamente diversi testimoni avevano visto i due ragazzi camminare all'interno del centro commerciale assieme quella sera. La polizia si recò dunque a scuola, entrò in aula e prelevò Curtis per portarlo alla centrale, dove gli chiesero subito perché l'hai uccisa. Ma secondo il ragazzo lui lo seppe proprio in quel momento che Michelle era morta. Sì è vero l'aveva vista al centro commerciale, aveva mangiato con lei ma non aveva nessun motivo per averla uccisa e infatti l'aveva accompagnata fino all'uscita del centro e poi lui era ritornato nel suo negozio. Nella settimana successiva alla morte di Michelle oltre 200 testimoni si fecero avanti. La polizia raccolse ogni dichiarazione, ogni sospetto, ogni alibi e ad un certo punto gli agenti si resero conto che un nome in particolare continuava a saltar fuori, quello di Andy Seydil. Andy è l'ex fidanzato di Michelle con cui aveva passato due anni prima che lei lo lasciasse. A detta di tutti Andy era un fidanzato molto geloso e non aveva mai accettato la fine della relazione con Michelle che non voleva più saperne di lui. La loro relazione era finita diversi mesi prima, la morte di Michelle. Ma la cosa fondamentale è che Andy venne visto da più persone al centro commerciale proprio la sera dell'omicidio e venne visto parlare proprio con lei. Lui non negò mai il fatto, disse di aver incontrato Michelle mentre stava comprando dei regali di Natale ma che non c'entrasse nulla con la sua morte. Inoltre la madre di Andy disse che lui era a casa nell'ora in cui presumibilmente Michelle venne poi uccisa, cosa che però non convinse troppo gli investigatori. La famiglia di Michelle inoltre era convinta che l'assassino fosse proprio Andy e la polizia pensava di chiudere a breve il caso e che lui, una volta messo alle strette, confessasse il tutto. Invece no, Andy non crollò e inoltre non c'erano prove fisiche ed effettive che lui centrasse con la morte della ragazza. Le indagini proseguivano e ormai le teorie sulla morte di Michelle erano davvero molteplici. Molte facevano soffrire la sua famiglia come l'accuse di giri di droga e prostituzione. Nella cittadina di Cedar Rapids cambiarono anche gli equilibri. Molti si licenziarono dal centro commerciale, molte ragazze non andavano più in giro da sole a qualsiasi ora del giorno e la comunità era davvero scioccata dalla vicenda, non si sentiva più nessuno al sicuro. Ora facciamo un salto in avanti e arriviamo alla giornata del 19 giugno del 1980, sei mesi dopo la morte di Michelle, quando la polizia pubblicò un identikit del possibile assassino. Era uno schizzo generato dalle descrizioni fornite da due testimoni in particolare che messi sotto ipnosi avevano ricordato alcuni particolari tra cui quelli legati a quest'uomo che si aggirava nel parcheggio del centro commerciale nella serata del 19 dicembre. Era stato descritto come un uomo bianco, appena maggiorenne, alto circa un metro e ottanta con occhi castani e capelli ricci scuri. La pubblicazione dell'identikit scatenò diversi riscontri ma nessuna importante pista o informazione. Gli investigatori infatti si ritrovarono nuovamente al punto di partenza. Un anno dopo la morte di Michelle Martinko erano state interrogate più di 100 persone, molte erano state messe sotto ipnosi, ad altre era stato fatto il test del poligrafo. Fu fissata anche una ricompensa di 10 mila dollari per chiunque avesse dato informazioni utili alle indagini. Per molti anni tutte le analisi e le indagini finirono in un vicolo cieco e si persero diverse informazioni in merito al caso. A metà degli anni Ottanta il padre di Michelle fece causa al centro commerciale West Dile Mall per negligenza, accusandoli di non aver provveduto ad un maggior sistema di sicurezza all'esterno del centro. Purtroppo la famiglia Martinko perse la causa e ormai perse anche ogni speranza che la figlia avesse giustizia. Nel 1995 morì il padre di Michelle Albert Martinko senza che fosse ancora stato trovato l'assassino della sua adorata figlia e poi nel 1998 morì anche la madre Janet. I genitori di Michelle morirono senza sapere davvero che cosa fosse accaduto alla figlia quella maledetta sera e morirono convinti che l'assassino fosse il suo ex fidanzato Andy. Fu solo nel 2006, 26 anni dopo l'omicidio, che ci fu la prima vera svolta di questo caso. Doug Larrison, un detective specializzato in casi irrisolti, si mise a riesaminare tutte le varie prove, soprattutto quelle inerenti la scena del crimine. Proprio lui notò qualcosa che nessun altro aveva notato, ossia che il sangue all'interno dell'auto non apparteneva solamente a Michelle ma anche a qualcun altro. Fortunatamente all'epoca le tracce ematiche vennero conservate perfettamente ed era questo il motivo per cui 26 anni dopo erano ancora analizzabili. Venne sviluppato a questo punto un profilo di un DNA sconosciuto e fu inserito nel CODIS che sarebbe una sorta di banca dati dove vengono conservati diversi DNA in America. Non venne però fuori nessun tipo di match, non venne trovata alcuna corrispondenza. Questo chiaramente fu un nuovo passo indietro per gli investigatori anche se ora avevano a tutti gli effetti il DNA dell'assassino di Michelle Martinko. Venne fatto a questo punto un test a 160 uomini della zona, un po' come nel caso di Yara Gambirasio. Vennero anche fatti i test ai parenti di Michelle, senza però trovare nessun match ma riducendo i possibili sospetti. Anche Curtis Thomas venne analizzato, l'ultima persona ad aver visto Michelle viva quella sera. E poi si aspettava al tanto atteso test del DNA di Andy, l'ex fidanzato, il principale sospettato della famiglia Martinko. Gli venne fatto anche a lui il tampone e neanche lui era l'assassino. Ora c'era la conferma definitiva che Andy fosse innocente. Nuovamente si era in un veicolo cieco, non c'erano più sospetti, non c'erano nuove informazioni e si era nuovamente contro un muro senza aver nessuna nuova pista. L'ultima speranza era che in futuro l'assassino di Michelle venisse fermato o arrestato e che gli venisse prelevato il DNA, in modo poi che sarebbe uscito come match nella banca dati. Poi c'era anche l'ipotesi che questo famigerato assassino potesse anche essere morto. Chi poteva saperlo? Ora arriviamo al 2017, quando il caso venne preso in mano nuovamente, questa volta dal detective Matt Denlinger. Il detective si rivolse ad un'azienda chiamata Parabon Nano Labs per essere aiutato nella risoluzione del mistero. Quest'azienda, situata in Virginia, è specializzata nella fenotipizzazione del DNA, conosciuta anche come fotoadattamento molecolare. In poche parole, questa azienda possiede una tecnologia tale che da un semplice DNA possono ricostruire e prevedere l'aspetto fisico di una persona. Sembra fantascienza, ma vi assicuro che è reale. Proprio dal DNA sconosciuto e trovato all'interno dell'auto di Michelle, venne fuori un nuovo identikit, totalmente diverso dal precedente, fatto diversi anni prima negli anni 80. L'assassino della Parabon Nano Labs era infatti un ragazzo con capelli biondi e occhi azzurri. Vennero fatte due versioni, con capelli corti e lunghi, e il ragazzo venne anche invecchiato all'età che avrebbe dovuto avere nel 2017. La polizia a questo punto non aveva dubbi, voleva rilasciare nuovamente pubblicamente l'identikit. Magari qualcuno poteva riconoscere questa ipotetica persona, ma ancora una volta nessuno si fece avanti con dettagli utili. Ma fortunatamente le cose non si fermeranno qui. L'anno seguente, nel 2018, grazie ad un sito chiamato Jed Match, venne arrestato il famoso Golden State Killer, ben 44 anni dopo l'inizio dei suoi numerosi omicidi. Il suo nome era Joseph James DeAngelo. A questo punto alla Parabon Nano Labs venne un'idea. Contattò infatti il detective del caso Michelle per chiedergli l'autorizzazione a confrontare il DNA del presunto assassino con quelli presenti sul sito Jed Match. Questo sito è famoso per essere davvero aperto a tutti. Qualsiasi persona può infatti caricare i dati del proprio DNA e questo per diversi motivi, sia per capire le origini della propria famiglia che per cercare persone scomparse e anche per appunto trovare degli assassini. Il detective a quel punto diede il via libera. Il DNA del sospetto venne caricato sul sito e ci fu un match. Il match fu con una donna di nome Brandy Jennings che viveva a Vancouver, nello stato di Washington. Secondo la composizione del suo DNA, questa donna doveva essere la cugina del possibile assassino di Michelle Martinko. La ragazza aveva caricato il suo DNA in quanto voleva sapere di più sulle origini della sua famiglia e di quella di suo padre in particolare che era morto nel 2009. Finalmente c'era un indizio reale, un indizio concreto da cui partire e a questo punto bisognava ricostruire l'albero genealogico di questa donna. La Parabon Nano Labs si misa al lavoro con le sue approfondite analisi e scoprì che Brandy condivideva uno dei quattro gruppi di bisnonni con l'assassino di Michelle. Ad un certo punto due di questi quattro gruppi venne eliminato e si confermò il fatto che Brandy fosse la cugina di primo grado dell'assassino. Ora i sospetti erano tre, tre fratelli e uno di loro era senza dubbio l'assassino di Michelle. I tre si chiamavano Kenneth Burns, Jerry Burns e Donald Burns, tutti ancora vivi e tutti residenti nello stato dell'Iowa. Dopo 40 lunghi anni ci si stava finalmente avvicinando alla risoluzione del caso. I tre fratelli a questo punto vennero messi sotto sorveglianza in modo che gli investigatori potessero segretamente impossessarsi dei loro DNA. Il primo campione che ottennero fu quello di Kenneth, un pensionato con tre figli che viveva a Manchester, una piccolissima cittadina circa 72 chilometri a nord di Cedar Rapids. Mentre l'uomo pranzava all'interno di un club di golf, gli agenti riuscirono a prelevare una cannuccia da cui aveva bevuto un drink e portarla immediatamente al laboratorio. Per Kenneth però nessun match, era innocente. Il secondo fu Donald, il maggiore dei fratelli, anche lui in pensione e anche lui padre di tre figli e poi nonno di cinque nipoti. Gli agenti andarono davanti alla sua abitazione di Davenport, a 136 chilometri da Cedar Rapids. Lo videro mentre usciva per buttare la spazzatura. Gli agenti poi aprirono il sacco e prelevarono uno spazzolino da denti. Una volta analizzato in laboratorio, anche per lui non ci fu nessuna corrispondenza. Era innocente. Ora mancava solamente più uno dei tre fratelli. Mancava lui, Jerry Burns. Il 29 ottobre del 2018 l'uomo venne seguito in una pizzeria di Manchester, un locale di nome Pizza Ranch. Qui Jerry mangiò pizza e bevette diverse bibite in bottiglie di plastica. E una volta che l'uomo se ne andò, il detective Matt Denlinger prese quelle bottiglie. Dopo l'analisi in laboratorio, arrivò il risultato. C'era il match. Jerry Burns era l'assassino di Michel Martinko. Jerry Lynn Burns era nato a Manchester nel 1953. L'uomo, ormai di 64 anni, aveva vissuto tutta la sua vita in questa piccola cittadina dell'Iowa. Era un uomo apparentemente tranquillo e anche molto gentile. Un perfetto insospettabile. Nel 1979 aveva 25 anni ed era sposato. Aveva anche due bambini piccoli. Nel 2018 invece era un rispettato uomo d'affari che possedeva un'azienda di verniciatura. Sua moglie si era suicidata nel 2008 e suo cugino Brian scomparve nel nulla il 19 dicembre del 2013, esattamente 34 anni dopo l'omicidio di Michel. Molti si sono chiesti se questi due casi fossero connessi a Jerry, ma non ci sono prove di questo fatto. A questo punto il detective decide di incontrare Jerry, portandosi dietro una telecamera nascosta e sorprendendolo all'interno del suo ufficio nella sua azienda. Lo farà il 19 dicembre del 2018, 39 anni dopo la morte di Michel. We were kind of hoping you'd tell us. The reality is we're not here on a whim. We're here to confirm what we already know. I already collected some DNA from ya that you got rid dunque il detective arriva e si presenta a gerry chiedendogli se si ricordava di questo famoso caso dell'omicidio di michelle martingo l'uomo risponde di sì ma che non si ricordava così bene questa notizia a questo punto il detective tira fuori l'immagine del fenotipo che era stato creato ed effettivamente era molto simile a jerry burns da giovane jerry in quel momento sembrava spaventato un po preoccupato da questa tecnologia e inizialmente non voleva farsi fare il tampone poi accettò a quel punto il detective cambiò atteggiamento dicendo che non era lì per fare due chiacchiere bensì per confermare il fatto che lui fosse l'assassino di michelle martinco e che sapevano già che il tampone sarebbe stato positivo al match matt denlinger a quel punto chiese a gerry raccontami cos'è successo quella notte perché eri lì e gerry rispose io aspetto il risultato del test non credo sia accaduto nulla quella notte e il detective chiese ancora hai ucciso qualcuno quella notte e gerry continua a rispondere solo test test del dna in tutto l'intervista durò un'ora ora in cui gerry rimase impassibile e calmo zero emozioni insomma anche quando venne formalmente arrestato la cosa assurda è che sì gerry non aveva ammesso direttamente l'omicidio di michelle ma neanche l'aveva totalmente negato ad ogni modo il test del dna confermò il match gerry burns era proprio l'assassino di michelle martinco c'è poi anche una seconda registrazione all'interno del veicolo della polizia ci sono sempre gerry e il detective il detective dice a gerry che magari era possibile che lui si fosse dimenticato tutto che avesse rimosso e gerry risponde non lo so gerry lin burns venne accusato di omicidio di primo grado e il suo computer venne sequestrato lui intanto continuava a professarsi innocente la cronologia che la polizia recuperò dal suo pc fu a dir poco disturbante molte volte a settimana l'uomo faceva ricerche del tipo aggressione di donne bionde oppure strangolamento o accoltellamento abusi e poi omicidio l'avvocato difensore di gerry presentò una mozione per respingere queste prove in tribunale perché secondo lui tra la morte di michelle e queste ricerche online erano passati troppi anni e non erano per forza di cose collegate il giudice concordò e le prove del pc vennero soppresse il processo venne fissato per la data del 10 febbraio 2020 presso il tribunale della contea di scott a davenport l'omicidio di primo grado nello stato dell'iowa comporta una condanna all'ergastolo obbligatoria senza condizionale dopo due giorni di selezione della giuria il processo iniziò era il 12 febbraio 2020 tutto il processo fu chiaramente incentrato sull'unica prova tangibile che fossi mano all'accusa ossia il test del dna la difesa di gerry burns però chiamò in aula il dottor michael spence autoproclamato medico legale che disse che il dna di gerry poteva anche essere stato trasportato dopo sulla scena del crimine ad esempio gerry avrebbe potuto andare al centro commerciale giorni prima o ore prima e michelle potrebbe aver raccolto le tracce con il vestito in diversi modi mentre era sul posto secondo il dottore infatti era scientificamente possibile al processo parlò anche andy l'ex fidanzato di michelle per decenni il sospetto principale delle indagini e poi salì al banco dei testimoni anche curtis thomas per dare il suo resoconto di quella maledetta sera curtis disse di aver sofferto per 40 anni di sensi di colpa per non aver accompagnato michelle fino alla sua auto quella maledetta sera ma la testimonianza più importante la darà il compagno di cella di gerry michael ellison alla domanda se fosse stato lui a compiere il crimine gerry gli aveva risposto non posso parlarne inoltre michael ellison disse che un giorno durante una partita di pinacola e durante appunto una discussione sul gioco gerry lo minacciò dicendogli se continui così devo portarti al centro commerciale il processo durò due settimane e il 24 febbraio la giuria iniziò a deliberare dopo meno di tre ore ad unanimità gerry burns venne dichiarato colpevole di omicidio di primo grado tre mesi dopo i suoi avvocati presentarono una mozione per un nuovo processo ma senza risultati perché il 31 marzo 2023 la corte suprema dell'iowa ha respinto l'appello e ha confermato la sua condanna condanna avvenuta al 7 agosto del 2020 gerry lynn burns è stato infatti condannato appunto all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale è attualmente detenuto nel penitenziario statale di anamosa la sorella di michelle martinco ha dichiarato di essere molto felice che sua sorella michelle avesse ottenuto giustizia ma che fosse meno felice che i suoi genitori fossero morti e non avessero potuto vedere con i loro occhi chi era l'assassino della loro adorata figlia jerry lynn burns si è sempre dichiarato innocente secondo gli investigatori l'uomo la sera del 19 dicembre 1979 si era recato nel parcheggio del centro commerciale di cedar rapids per aggredire sessualmente una ragazza e per sfogare le sue fantasie oscure quando vide michelle una bellissima ragazza bionda camminare da sola verso la sua auto aveva deciso che sarebbe stata proprio lei la sua vittima michelle sicuramente si era ribellata e difesa e quindi gerry l'aveva uccisa in preda al panico per poi fuggire sperando di farla franca cosa che riuscì a fare per ben 39 anni il lunghissimo e assurdo caso della morte di michelle martinco termina qui io come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata di real crime e quindi al prossimo caso